Denunciato dalla Polizia di Stato domenica pomeriggio, il ventenne, che era in viaggio sul treno in direzione Palermo, senza biglietto né green pass, aveva con sé anche un coltello. Quando il controllore ha chiesto al giovane palermitano i documenti, vista la situazione, gli ha elevato la sanzione. A quel punto il ventenne, che era anche senza documento d'identità, si è rifiutato di pagare. Così è stato chiesto dal capotreno del convoglio l'intervento della Polizia alla stazione ferroviaria di Caltanissetta Xirbi. I poliziotti, una volta identificato il giovane, lo hanno perquisito e gli hanno sequestrato il coltello che era nella tasca del giubbotto. Oltre alla denuncia penale alla Procura della Repubblica di Caltanissetta per portodarmi o oggetti atti a offendere, il giovane è stato anche sanzionato per la violazione delle norme di contenimento del Covid-19.